Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova analisi su Ethereum. Sono quattro giorni che Marco visita, anche perché sono stato parecchio impegnato fuori Torino, ed ecco che torniamo a vedere un po' la situazione. Prima di tutto, la scorsa settimana vi dicevo cosa fondamentale, che dato che eravamo arrivati solo a 5 barre di inverso, eravamo qua, non potevamo aver chiuso il settimanale inverso, il quarto TI, e quindi avevamo bisogno di tornare sopra il top assoluto fatto a 1846,77. Abbiamo raggiunto questo target? Nonostante questa orrenda lateralità, sì, Con questo massimo siamo andati sopra e abbiamo fatto 1861,67, la bellezza di... Praticamente siamo saliti di 15 dollari scarsi. E' così, questo è un periodo estremamente sfidante sui mercati e cripto, si vedono delle cose che da gennaio rendono più difficile il trading, però devo dire che Ethereum è una di quelle cripto che sono molto più semplici da leggere di tante altre, Bitcoin incluso. Qui cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto un... Chiuso un settimanale inverso... Aspettate, allora vi faccio meglio perché... Ok. Chiuso un settimanale inverso, che parte da massimi, sviluppa minimi, e torna su massimi a nove giorni, e poi ne abbiamo fatto iniziare un altro. Per cui, già per capire che cosa aspettarsi, che cosa possiamo fare, a parte fare un bel refresh del grafico. Possiamo andare, per capire dove andremo, a mettere uno, un allarme a 1861,67, per sapere se si potrà continuare a salire, se andremo in violazione da domani in avanti, sopra questo massimo, perché vincoleremmo un settimanale inverso a salire, e potremmo ancora avere salita su questo mensile inverso? Allora, da qua a qua abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura di un mensile inverso da 36 barre. Dopo, per arrivare al massimo di durata di un mensile inverso, ovvero a 43 barre, abbiamo ancora 7 giorni. Qui abbiamo ancora la possibilità, eventualmente, se vogliono tirarle in lungo, di fare così un altro buffer rialzo. Viceversa, che cosa facciamo? Per poter controllare se invece gli basterà questa come chiusura e inizieremo a scendere, è semplice, da dove è partito il nuovo ciclo lato indice, da qua, che ha fatto 1, 2, 3 barre, metteremo un altro allarme qua, a 1715,17, 1715.17, e vedremo se valutare uno short. In violazione è proprio qui questo minimo, perché? Perché avendo già 3 giorni sopra un minimo, questo è il minimo, e abbiamo 3 candele giornaliere, noi abbiamo tutte le condizioni per la partenza di un nuovo settimanale, del secondo settimanale di questo nuovo mensile, che ha fatto che cosa però? Ha fatto 11 giorni di indice, un raccordo di grado T-3 tra T settimanali, e poi ha fatto partire un altro T settimanale. simpatici, eh? Ogni tanto abbiamo visto, lo riscontravamo soprattutto qua, vi ricordate, a luglio del 2022, ci ficcavano questi fantastici raccordi dopo l'undicesima bar, dopo l'undicesima bar, e anche qua è successo, vedete che io mi ricordo tutto, perché? Perché faccio trading davvero, perché non sono un fufa guru. Il discorso è che quindi bisogna stare in campana, ma noi, grazie a questi due semplici allarmi, sapremo come muoverci. Qui, tra l'altro, facciamo un elimina, ok, questo invece non ci serve più, e grazie a questi semplici allarmi sapremo se partirà un mensile in verso nuovo che ci spingerà verso il basso e ci farà chiudere questo T più 2, oppure finiremo di salire e di chiudere che cosa? Questo mensile in verso che può arrivare fino al 43esimo giorno e siamo a 38. Peraltro, stiamo ancora dentro un semestrale in verso, siamo a 102 barre, anche questo facciamolo, anche se purtroppo ci sono anche altre centrature che sto provando a guardare, qui però è ancora evidente che siamo su un annuale inverso che è arrivato a 222 più 2 barre, 224 barre e che come durata media sapete che ne dura 256 e come durata massima arriva a 336. Non abbiamo vincoli sul lato indice, abbiamo avuto una buona spinta con questo T più 2 che può far partire altre cose perché già soltanto per il fatto che siamo a 15 giorni sopra questo minimo possiamo far partire anche un T più 3 ok? E sappiamo che anche purtroppo qui abbiamo la condizione necessaria e sufficiente per la chiusura di un annuale ma calma e gesso ok? Per vedere partire un altro annuale dovremmo avere molta più forza mentre invece come vi ho fatto vedere in quest'ultimo periodo abbiamo lateralizzato tantissimo ovvero è dal 18 che abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 candele una che nega l'altra praticamente rosso verde rosso verde rosso verde rosso eh che ragazzi già se questa non fosse verde bene magari sapremmo con la violazione di questo minimo che si può valutare uno short per tutta la durata minima di un settimanale noi siamo a 3 giorni se si arriva se sappiamo che il minimo è 6 troviamo anche un target naturale dove su questa media anzi sui 1.637 che la media mobile ha 50 periodi oppure comunque sui 1.622 47 che sono che costituiscono il livello inferiore superiore voglio dire dell'accumo per cui questo è un trade molto facile tenete a mente queste due cose qui la freccia possiamo toglierla in questo caso perché c'è persino più possibilità con queste per ora due candele rosse che finalmente si vada in violazione di questi 1.715 17 e si abbia un settimanale ribassista che potenzialmente potrebbe portarci alla chiusura del mensile no però potrebbe portarci a una chiusura di un bisettimanale primo settimanale e secondo settimanale direi che è tutto vi ho dato target in caso di discesa ovvero sui 1632 livello della cumo adesso mi segno anche quello o 22 e anche l'allarme se si dovesse valutare di continuare a salire con questo vincolo magari ora come ora è più interessante questo abbiamo detto 1635 perfetto vi ringrazio per il vostro tempo e se l'analisi vi è piaciuta mettete un bel like ricordate a tutti che c'è una playlist qui sul canale in cui potete andare si chiama trading days a fare tutto un corso gratuito di analisi ciclica base più un'introduzione all'evoluta e capire di che cosa stiamo parlando con questi t t più 4 t più 5 t inversi eccetera eccetera ok vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata la mia lo sarà sicuramente anche se è stata una mattinata veramente sfidante buon like a tutti arrivederci grazie a tutti